Dall'1-0 di svantaggio, dopo due minuti, un uomo in meno, il Bagnaia che sfiora addirittura la vittoria con il calcio di rigore di Morucci. Sicuramente oggi, mister Milani, da sottolineare il carattere di questa nuova Bagnaia? Sicuramente da sottolineare il carattere. Peccato che sono due settimane in zevito che ci esce fuori dopo un approccio sbagliato alla partita, perché anche domenica scorsa con il Sampio non siamo andati sotto, ma abbiamo sofferto tanto il primo tempo. Poi nel secondo ci siamo svegliati, oggi ci siamo svegliati un po' prima, però su questa cosa c'è da lavorare perché le partite cominciano al primo minuto. Ma al di là di questo, poi dopo hanno combattuto con tanta grinta, tanta cattiveria agonistica, hanno giocato in alcune fasi anche bene. Io vorrei sottolineare la volontà delle due squadre di non accontentarsi mai, anche sul pareggio, in 10 contro 10, stanchi, un campo pesante, nessuna delle due ha mai rinunciato a tentare di vincere la partita e questo è bello in queste categorie. Non sempre succede così, a volte ci si accontenta, invece sono contento che anche chi era al campo ha visto una partita dal punto di vista della volontà di vincere sicuramente valida. 15 punti mister, 10 partite, 15 punti è una partenza più che ottima in un campionato equilibrato ma difficile. L'importante a questo punto è mantenere questo carattere che abbiamo visto oggi e migliorare negli aspetti che dicevi, giusto? Esatto, abbiamo da migliorare, innanzitutto nei rigori perché è il terzo che tiriamo e il terzo che sbagliamo, quindi dovremmo lavorare più su questo aspetto. Noi dobbiamo arrivare prima possibile a raggiungere l'obiettivo primario del campionato, cioè continuare a fare la prima categoria anche l'anno prossimo. Una volta raggiunto questo obiettivo poi magari vedremo se ci sarà la possibilità di toglierci anche altre soddisfazioni. Il gruppo è fatto da tanti ragazzi giovani e forse l'aspetto dell'approccio alla partita è sbagliato, dipende anche da questo. Dovremmo lavorare di più su questo aspetto a partire da me. Però fino adesso io credo che stiamo facendo un campionato buono, per non dire ottimo, forse un pochino al di sopra delle aspettative di tutti quanti e va bene così. Ringraziamo Mr. Milani, siamo in attesa dei rispetti migliori in campo delle due formazioni. A fra poco!